Ciao Lorena, mi è piaciuta molto questa sessione fatta con Lorella, mi sono sentita coccolata anche, ho ascoltato tanto le mie emozioni, cosa che faccio fatica a fare, ma grazie alla sua musica abbiamo toccato dei punti molto importanti sui quali penso di avere spazio per lavorare e quindi consiglio. Grazie.